Tg12, buon pomeriggio, bentrovati. Manca un mese al voto ed è l'ora dei sondaggi. Sondaggi che ad oggi danno in testa per l'uninominale della Camera a livello nazionale il centrodestra, mentre in Sardegna la partita tutta da giocare con il Movimento 5 Stelle. Sentiamo Adriano Porquedo. Manca poco più di un mese al voto del 4 marzo per il rinnovo del Parlamento e i sondaggi, sempre più articolati, diventano uno strumento indispensabile per i partiti che muovono le pedine in base all'andamento del proprio gradimento di quello degli avversari. I sondaggi pubblicati su repubblica.it e curati da Salvatore Vassallo secondo un personale metodo di incrocio dei dati che tiene conto dei sondaggi delle ultime due settimane ma anche dei flussi da un partito all'altro applicati ai risultati delle politiche 2013 in ogni collegio del Rosatellum, in netto vantaggio stando a Vassallo ad oggi sarebbe a livello nazionale per la Camera il centrodestra che conta su 144 seggi sicuri contro i 24 del centrosinistra e i 4 del Movimento 5 Stelle. Interessante a livello locale dove troviamo invece una partita tutta da giocare tranne che per il collegio di Sassari che sarebbe dato ad oggi sicuro al Movimento 5 Stelle e che lo vedrebbe dunque assegnato al candidato pentastellato Mario Perantoni. Stesso discorso per quello di Carbonia che andrebbe, stando a questi dati, il Movimento guidato da Di Maio. Gli altri quattro collegi sono invece terreno di conquista aperta ma a contenderseli sarebbero il centrodestra con i 5 Stelle mentre la coalizione di centrosinistra perderebbe ovunque. Quindi ad oggi la partita si giocherebbe nel collegio di Olbia tra Giuseppe Fasolino per il centrodestra e Nardo Marino per i 5 Stelle a Nuoro tra Bruno Murgia per la coalizione guidata da Forza Italia e Maria Lapia per i pentastellati. Per il collegio Sardegna 6 di Oristano partita aperta tra Gianni Lampis a destra e Luciano Cadeddu per il Movimento 5 Stelle ed infine a Cagliari per il centrodestra Ugo Capellacci e per il partito di Di Maio e Andrea Mura. Stando dunque a questo sondaggio rimarrebbero fuori nomi eccellenti come il senatore uscente Silvio Lai candidato all'Unione Nominale per la Camera con il Partito Democratico. Ma siamo solo all'inizio, i sondaggi si sa, sono una metà della verità nelle partite elettorali, l'altra è l'imprevedibilità degli elettori. Questa mattina a Sassari la terza e unica tappa nell'isola di Industri 4.0, il percorso formativo per gli industriali nato con la collaborazione tra Confindustria e Università per accompagnare gli imprenditori verso la quarta rivoluzione industriale. Sentiamo Sandra Sanna. Sassari unica tappa in Sardegna del percorso nazionale formativo e informativo, Industri 4.0 per la formazione imprenditoriale. Il programma è ideato da Confindustria che si articolerà su 18 incontri, quello di questa mattina era il terzo, e si è svolto nell'incubatore dell'Università di Sassari, Cubact in via Rockefeller. L'obiettivo è spiegare cosa si intende per Industria 4.0 e accompagnare le imprese italiane verso la quarta rivoluzione industriale. I lavori sono stati moderati dal giornalista del Sole 24 Ore, Luca Orlando. All'incontro era presente il delegato dell'Università di Sassari per il trasferimento tecnologico e grandi attrezzature Gabriele Mulas, il presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna Giuseppe Ruggiu e il presidente del Digital Innovation Hub della Sardegna Alberto Scano. Un percorso che mira a diventare un trampolino di lancio nel futuro per gli imprenditori che hanno coraggio per aumentare la propria crescita, non solo a livello locale ma internazionale. Un'iniziativa che si avvale della collaborazione del Digital Innovation Hub della Sardegna e l'ufficio per il trasferimento tecnologico dell'Università di Sassari, il luogo in cui l'impresa incontra la ricerca. Tutti i riferimenti su Industri 4.0 sono reperibili sul sito della Confindustria www.preparatialfuturo.confindustria.it tra i relatori numerosi dirigenti di aziende consolidate sul territorio che hanno raccontato la loro esperienza quali Andrea Alessandrini dell'anno Bento, Paolo Alberto Pinna della Sardegna Experience e Antonio Solinas di Abinsula. Ed ora la cronaca ha arrestato un algherese di 37 anni per furto aggravato dalla polizia di Alghero. L'uomo aveva scassinato una gioielleria del centro lasciando alcuni preziosi sulla strada. Immediata la denuncia che ha fatto scattare le indagini tramite le testimonianze di alcuni abitanti e la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza sono risalite all'identità del responsabile il quale è represo dalle telecamere mentre forzava le vetrine e nascondeva diversi oggetti sotto il giubbotto. Cambiamo argomento, parliamo della maculopatia. Fino al 23 febbraio la clinica oculistica dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari aderisce alla prima campagna nazionale di prevenzione e diagnosi. Il servizio è di Walter Fanni. Ha preso il via anche a Sassari, presso la clinica oculistica dell'azienda ospedaliera universitaria, in Viale San Pietro, la prima campagna nazionale di prevenzione e diagnosi della maculopatia. L'iniziativa, che durerà fino al 23 febbraio, è promossa dal Centro Ambrosiano Oftalmico e dal San Raffaele di Milano con il patrocinio di Ministero della Salute e della Società Oftalmologica Italiana. La maculopatia è una degenerazione della porzione centrale della retina dovuta a varie cause, tra cui il diabete, che determina gravi riduzioni della capacità visiva fino alla cecità. La campagna è rivolta a persone di età superiore ai 50 anni, età in cui possano manifestarsi i primi segni della patologia. A Sassari è l'equipe di specialisti guidata dal professor Francesco Boscia, che effettuerà gli accertamenti e le diagnosi. Per usufruire dello screening gratuito è sufficiente prenotare la propria visita sul sito www.maculopatie.com. Domani, sabato 3 febbraio, al Palazzo Città Teatro Civico si terrà la giornata insieme per l'autismo, frutto della collaborazione tra il club Inner Wheel Centro e la compagnia del teatro sociale Pacco Mustela. Al mattino è previsto un incontro dibattito con la presenza di Pier Carlo Morello, l'autore del libro Macchia autobiografica di un autistico. La serata, alle 18 e alle 21, sarà invece dedicata allo spettacolo teatrale Coinos, scritto e diretto da Pierangelo Sanna, con la collaborazione della coreografa sassarese Margherita Massidda, direttrice del Corpo di Ballo 7 in Valigia. Cambiamo argomento, il giorno della memoria è rivisitato e messo in scena su una prima traccia ad hoc come il memoriale E questo un uomo di Primo Levi, dagli alunni del comprensivo Quinto Pertini-Biasi. Un ottimo lavoro dove la multimedialità ha premiato la rappresentazione. Il Coribichesu lo ha visitato per noi. L'Istituto Comprensivo numero 5, Pertini-Biasi, ha messo in scena una rappresentazione dedicata al giorno della memoria. Abbiamo visitato il palcoscenico e ai nostri microfoni Monica Uzzanu. Abbiamo preparato questo spettacolo per il giorno della memoria, per il 27 gennaio. pensavamo che le repliche sarebbero terminate in giornata e invece ci siamo resi conto che lo spettacolo è piaciuto molto ai colleghi, ai ragazzi e quindi abbiamo deciso di prolungare le repliche e farne tante altre per i colleghi e per tutta la scuola praticamente. Avevamo la preoccupazione che alcune immagini fossero, è uno spettacolo multimediale, quindi con immagini, musica e recitazione. La preoccupazione era che alcune immagini fossero troppo forti, troppo crude o che comunque i ragazzi avessero un impatto emotivo troppo forte o inadatto per la loro età. In realtà poi hanno capito, non vola una mosca mentre si sta rappresentando questo spettacolo. Pensiamo che anche se ovviamente lo spettacolo sia pesante, sia triste sicuramente, sia importante che i ragazzi sappiano, conoscano bene questa parte di storia. Si è stati un po' attenti a evitare delle scene violente, delle scene cruente. I ragazzi devono capire che non è passato molto tempo da questi episodi terrificanti e che potrebbe, bisogna cercare di fare in modo che non ricapiti più. Dopo il grande successo dello scorso 13 gennaio, ritorna stavolta al Teatro Civico, domenica 11 febbraio, fosse all'estra di Accicita. Uno dei classici di Giovanni Enna, messo in scena dalla compagnia Paco Mustela, previsto un doppio appuntamento alle 17 e alle 20. Sentiamo Luca Fodai. Dopo il grande successo dello scorso 13 gennaio, con due rappresentazioni entrambe sold out e le numerose richieste, la compagnia Paco Mustela, il prossimo 11 febbraio, riproporrà al Teatro Civico la commedia in lingua sassarese, fossi all'estra di Accicita, con due spettacoli alle 17 e alle 20, con la regia di Pierangelo Sanna. La commedia è una delle opere più note di Giovanni Enna, pubblicata nel 1980, insieme ad altri sei titoli dello stesso autore. Primi anni 40, Accicita e Agnazio, insieme alla figlia Peppina, gestiscono un vindioru al centro storico. I magri guadagni permettono una vita dignitosa. L'usuraio Gnomario ha però messo gli occhi sullo stabile in cui si trova la locanda, la cui area acquisterebbe valore con il nuovo piano regolatore. Una speculazione in piena regola, per avviare la quale il vecchio Manigoldo è coadiuvato da Doloretta, vedova senza scrupoli del fratello di Cicita. Il piano viene sventato dall'avvocato Marracciu, che ha abbandonato l'alcol, recupera la sua dignità e aiuta Cicita e Agnazio. Per le prenotazioni è possibile contattare il numero 366 5844 284. The Man of Trees, film sperimentale ideato e diretto da Tore Manca, sarà presentato sabato 3 febbraio a Ploaghe. Il progetto cinematografico del regista Sardo intende sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali ed ecologiche. Sentiamo Valeria Secchi. Appuntamento sabato 3 febbraio a Ploaghe con The Man of Trees, l'uomo delle querce, progetto cinematografico ambientale liberamente ispirato al famoso racconto di Jean Giorno, l'uomo che piantava gli alberi. Ideato e diretto dal regista Salvatore Manca con la voce narrante di Matteo Gazzolo, The Man of Trees è patrocinato dai comuni di Sassari, Ploaghe, Tempio, Lura, Sossi, Scano di Montiferro e dalla provincia di Sassari. Al film partecipano nel ruolo di attori Bruno Petretto, Matilda Deide e Giovanni Salis, anche coproduttore insieme alla coreografa Daniela Tamponi. Il progetto intende sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali ed ecologiste, risvegliare l'amore per la natura maltrattata attraverso l'uso della videoarte e del cinema sperimentale. A fare da scenario naturale alle riprese ploagesi saranno le campagne e gli stazi della località di Truvina, in particolare nelle aziende agricole della famiglia Salis e Sini, che hanno dato con entusiasmo la disponibilità per girare le scene. E dopo gli ultimi set cinematografici dei film Buon Lavoro della Cinema Scetti con Franco Nero e Lina Sastre, Ovunque Proteggimi di Bonifacio Angius, Ploaghe si conferma sempre più la cinecittà sarda. Ci fermiamo per un breve black pubblicitario. A tra poco. A tra poco. Bentornati in studio con la pagina sportiva. Parliamo di calcio, gara ad alto rischio emotivo, quella che domani alle 14.30 attende i biancocelesti al Banni Sanna. La società, per voce del suo presidente Roberto Fresu, ha emesso un comunicato dove si chiede più attenzione in tutti i comparti del sodalizio, perché ulteriori passi falsi potrebbero vanificare quanto di buono è stato fatto finora. Vediamo il servizio. Domani alle 14.30 la sassa di calcio a Tadolce riceve il Cassino. Il presidente Fresu lancia un messaggio chiaro alla squadra. Il girone di ritorno è paradossalmente ancora più difficile da decifrare e piuttosto rispetto al girone di andata, perché le squadre si sono rinforzate, alcune hanno cambiato radicalmente volto sul campo, per provare a fare lo scatto decisivo verso l'alto o per dare una scossa alla loro classifica in chiave salvezza. Contro il Budoni abbiamo perso una partita che era di sicuro alla nostra portata. Una gara in cui l'avversario ci ha concesso tante occasioni per buttarla dentro e noi non abbiamo avuto la giusta cattiveria agonistica e la necessaria lucidità per colpire, capitalizzare e far nostro il match. Lucidità che dobbiamo avere per tutti i 90 minuti. Dobbiamo restare concentrati a stare sul pezzo ancora di più di in questo momento in cui i punti iniziano ad essere pesanti, molto pesanti. Chi più chi meno, tutte le squadre in lotta per la conferma e la categoria si sono rinforzate, perché nessuno vuol retrocedere. In due minuti a Budoni siamo passati da un ipotetico non opposto al dodicesimo. Il match era da chiudere bene nel primo tempo, abbiamo dilapidato una posizione più tranquilla. La settimana del lavoro è già ripresa, gli errori vanno trasformati in insegnamenti, la rabbia in energia, perché sul campo bisogna dare tutto. E forse anche di più. Ora affronteremo Cassino-Oesteomare. Contro Cassino l'andata perdiamo su rigore al 92esimo. Sabato arriveranno sui leri di entusiasmo perché vogliono fare i play-off. Sono una squadra ambiziosa e vogliono salire in categoria. Non ci sono processi da fare, ci mancherebbe, ma è giusto che tutti si assumano le loro responsabilità. Non possiamo più regalare una partita come domenica, come è già accaduto con il Trastevere. Basta distrazioni, tutti sul pezzo. Non c'è pressione a livello esigenziale, però l'invito è a dare i più. Per la squadra, per i singoli giocatori, per lo staff, per il progetto. Era questa l'ultima notizia del nostro TG. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora. Prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sui vostri smartphone o tablet su wifi.tv.tv, sulla pagina internet www.canaledodici.it e ancora sui social Facebook, Instagram e YouTube. Il prossimo appuntamento con il TG è come sempre questa sera alle 19.45. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.